e ti saluto con la pace del signore e ti auguro una bellissima giornata oggi venerdì 20 gennaio 2023 sia benedetto il nome del signore quanto è buono il signore lo puoi dire io credo che ognuno di noi possa dirlo ma io lo voglio dire a gran voce sai perché perché in questi giorni come avrei potuto anche notare dai video che ho fatto sono stato un po abbattuto il mio spirito era contrito ero travagliato nell'animo ti ho chiesto di pregare per me e sono sicuro che lo hai fatto voglio darti una buona notizia il signore mi ha risollevato il signore ha tolto dal mio cuore il peso che avevo e ha messo pace ha messo ha risposto in modo particolare alla domanda che gli avevo posto e quando succede questo che noi preghiamo chiediamo a dio qualcosa io ho chiesto a dio specificatamente una cosa e dio ha risposto specificatamente sai cosa succede la gioia invade tutto il corpo tutto pure i capelli a ogni singolo c'è ogni singola cellula del tuo corpo perché perché dio ha risposto e questo mi dà fiducia mi dà speranza mi dà gioia mi dà pace perché dio non è nel cielo nel suo trono solamente per farsi gli affari suoi oppure solamente per controllare qualcuno e basta no dio è dio e si prende cura di ogni singola creatura ogni singola creatura e in modo particolare e gli fa del bene a quanti sperano in lui a quanti si confidano in lui io ho sperato nel signore e il signore ha risposto io ho confidato nel signore e il signore mi ha consolato io ho cercato il signore ed egli si è fatto trovare perdonami per questa breve testimonianza ma il mio cuore è pieno di gioia voglio condividerla con te detto ciò ora vogliamo ascoltare la parola del signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini getta sul signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà egli non permetterà mai che il giusto vacilli questo testo lo possiamo trovare nel salmo 55 il versetto 2 un altro versetto leggeremo che dice così gettando su di lui ogni vostra preoccupazione perché egli ha cura di voi quest'altro testo lo possiamo trovare nella prima lettera di pietro capitolo 5 versetto 7 il titolo di questa meditazione biblica è un'affermazione scaricatevi dei vostri pesi un uomo percorreva una strada di campagna alla guida del suo furgone quando vide un'anziana donna che portava un pesante sacco sulla sua schiena ovviamente impietosito si fermò per offrirle un passaggio che lei accettò di buon grado prendendo posto sul sedile posteriore qualche istante dopo l'uomo si stupì nel notare come la sua passeggera continuasse a tenersi il sacco sulle spalle signora le disse potrebbe posare il suo carico cerchi di rilassarsi a volte il comportamento sorprendente di quella donna e anche il nostro amici ascoltatori cosa facciamo del peso delle paure delle ansie degli affanni che spesso ci portiamo addosso invece di trovare il riposo nel signore ce lo teniamo sulle spalle proprio come quella donna dei pesi che dovremmo rimettere a lui il quale ha detto venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò il riposo dice gesù intendi affrontare da solo gli affanni di ogni giorno e continuare ad avere le spalle appesantite dal carico che ti opprime desisti confida al signore tutto il tuo dolore affidalo a lui non posare a terra il tuo carico per riprenderlo subito dopo consegnalo al signore lascialo a lui una volta per tutte solo allora camminerai speditamente come un credente gioioso liberato dagli affanni e canterai riconoscente le lodi del signore gesù sì perché una volta che deporrai il tuo peso una volta che il signore ti libererà da questo fardello che stai portando sulle spalle ovviamente ti sentirai ah finalmente libero gloria a dio e questa libertà ti porterà a cantare a lodare dio a ringraziare dio perché perché non lo hai non non sei stato tu a scaricarti di quel peso ma è stato il signore che ti ha liberato diamo gloria a dio e cerchiamo di non riprenderci i pesi dalla quale il signore ci ha liberati stiamo attenti e andiamo avanti gioiosi lodando e benedicendo il nostro signore addio vada tutta la lode e la gloria ti saluto con la pace di gesù e ci vediamo domani al solito appuntamento buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti